il leader della lega live non è la d'urso stiamo lavorando su salute lavoro e scuola un nuovo lockdown spero proprio di no il leader della lega matteo salvini a live non è la d'urso scongiura l'ipotesi di un nuovo blocco totale stiamo lavorando su salute lavoro e scuola ha spiegato siccome l'europa non ha mantenuto le promesse fatte ho contattato autorità politiche diplomatiche di molti paesi da india israele fino a san marino per cercare ogni aiuto possibile sui vaccini lo sputnik funziona si autorizzi serve correre ringrazio il ministro giorgetti perché sta lavorando per produrre vaccini in italia ha proseguito salvini questi vaccini ci serviranno a lungo per non dipendere dagli errori degli altri poi l'ex ministro dell'interno ha illustrato la sua idea per fronteggiare l'emergenza oltre a preparare la produzione in italia ha detto serve acquistare vaccini ovunque ci siano e investire nelle terapie domiciliari come sta facendo efficacemente la regione piemonte per evitare di intasare gli ospedali